Ciao a tutti, vi lascio questo nuovo video sperando che possiate utilizzarlo come spunto per i vostri lavori e soprattutto che vi sia utile. Come sapete cerco di fare dei piccoli tutorial alla portata di tutti, facili e divertenti. Per qualsiasi domanda sono disponibili sulla mia pagina Facebook ed Instagram, trovate tutti i link sotto nella descrizione, non esitate a chiedere anche nei commenti qui sotto, mi fa piacere. Iscrivetevi al canale per restare aggiornati, al lavoro e divertiamoci! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!